Mi candido sindaco di Taranto con il movimento Taranto senza Ilva, trasversalmente ai partiti, nel centrodestra, nel centrosinistra, nel Movimento 5 Stelle. Una sfida per ridare decoro e dignità a questa città, alla nostra Taranto. Una dignità ambientale, una dignità in termini di vivibilità urbana. Ci troviamo oggi in Via De Cesare, quindi nel pieno borgo Umbertino e c'è la problematica, vedete, di alcuni palazzi, palazzi d'epoca, che si stanno appunto ristrutturando. Per carità e bene è una cosa positiva che ci siano ditte, ci siano proprietari che investano nel riqualificare i palazzi. La cosa assurda è che abbiamo letto un comunicato da parte del movimento politico Taranto Crea, di cui fanno parte, gli ex assessori Fabiano Marti e Fabrizio Manzulli, i quali, udite udite, hanno scritto al commissario prefettizio dicendo ma qui questa zona è davvero impraticabile perché questi palazzi, in effetti questi lavori comportano che il marciapiede sia completamente occupato. C'è dunque un disagio per i pedoni, c'è un disagio per gli automobilisti che appunto vedono la carreggiata, vedete, più ristretta. c'è un disagio per i commercianti e gli assessori, che sono stati assessori fino a un mese e mezzo fa, che cosa fanno? Scrivono al commissario prefettizio. Gli assessori, cioè la lista Taranto Crea, che sosterrà Melucci alle prossime amministrative, alle prossime comunali. Marti, Manzulli, lo ripetiamo, Marti, Manzulli, ma cosa credete? Che i tarantini siano cretini? Voi avete amministrato fino a un mese e mezzo fa, ora state sollevando il problema. E prima che ci stavate a fare, cosa avete fatto prima? Ora cadete dalle nuvole e dite, signor commissario, c'è questo problema, tu hai amministrato, Marti, vice sindaco, Manzulli, assessore allo sviluppo economico, voi avete amministrato e ora che fai ti rivolgi al commissario prefettizio? Come se Marti e Manzulli fossero stati dei semplici cittadini che non avessero mai amministrato la città di Taranto. Ecco, vedete cittadini, questo significa che Marti e Manzulli pensano che i cittadini di Taranto abbiano l'anello al naso e che non riescano a capire. Assumetevi le vostre responsabilità di un'amministrazione politica e amministrativa fallimentare, assolutamente fallimentare. Ora che fate? Vi rivolgete al commissario. Quattro anni e mezzo, in quattro anni e mezzo cosa avete fatto? Nulla, solo parole. Questa è la rinascita che l'amministrazione Melucci dice di aver seminato. Ma Manzulli, Marti, vi rendete conto? I Tarantini meritano ben altro rispetto a voi. Per questo c'è il movimento Taranto senza Ilva. Per questo mi sono candidato sindaco, per spazzare via questa gente che sa solamente fare campagna elettorale negando l'evidenza. Cittadini di Taranto si lamentano amministratori della cosa pubblica che hanno amministrato fino a un mese e mezzo fa. Noi tarantini non siamo cretini e vi manderemo a casa, cari signori dell'amministrazione Melucci. Così anziché seminare la rinascita, come dite di aver fatto, forse andrete a seminare i semi di peperoncino nei vassi sui vostri balconi. C'è una Taranto migliore, c'è Luigi Abbate, candidato sindaco di Taranto, c'è il movimento Taranto senza Ilva.